Molto rumore per nulla. Il titolo della famosa commedia teatrale scritta da William Shakespeare si presta perfettamente a sintetizzare la vicenda della nomina del nuovo revisore dei conti della comunità montana Vallo Didiano, che ha vissuto ieri sera nell'aula consigliare della Certose di Padula un nuovo paradossale capitolo all'insegna dei colpi di scena. È stato infatti lo stesso presidente dell'ente montano, Raffaele Accetta, ad annunciare che la tanto criticata delibera, che aveva affidato la carica di revisore dei conti al 75enne professionista diteggiano Franco Iorio, andava annullata perché viziata in partenza da un vizio di forma. Il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali infatti recita esplicitamente che nelle comunità montane la nomina del revisore dei conti deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Necessario dunque annullare la delibera? O forse no, visto che i sindaci di Atena Lucane e Sassano, Sergio Annunziata e Tommaso Pellegrino hanno espresso voto contrario all'annullamento, sottolineando che dal loro punto di vista la delibera era irregolare in partenza e dunque non aveva mai avuto valore. Insomma, un'atmosfera davvero surreale è quella vissuta ieri nel Consiglio Generale dell'ente montano, dove sono proseguite le polemiche sui modi in cui la vicenda è stata gestita, tra reciproche accuse e posizioni inconciliabili, mentre nel frattempo le regole sono cambiate. La nomina del revisore dei conti la farà infatti la prefettura di Salerno, sorteggiando tra i circa 540 nominativi dei professionisti iscritti all'albo regionale, pubblicato nei giorni scorsi sul BURC, dei quali solo una trentina sono del Vallo di Diano. Dunque un'occasione persa dalla politica, incapace di favorire un giovane professionista territoriale attraverso una scelta condivisa, ma anche una pessima dimostrazione della maggioranza che governa la comunità montana, che ha dato l'impressione di essere sempre più spaccata e di Sousa.